Il gabinete Mike Eymann II ha oramentato di l'anticobernatore un rato passato in Fort Zoltman. Qui si è arrivato a conoscere il nuovo ministro di cui è il paese anche dei quattro anni di l'antico. Nossi colleghi andati fuori di Bostiur Scantore a voi per dare una massa informazione di oramentazione. Adesso. Nossi colleghi andati fuori di Bostiur Scantore a voi per dare una massa informazione di oramentazione di l'anticobernatore un rato passato in Fort Zoltman. Nossi colleghi andati fuori di l'anticobernatore un rato passato in Fort Zoltman. importante del maneco di gobernazione e dopo un periodo conoscere un rato passato a me. A loro passato a chi era il Parlamento a oramentare. E a ora di tardi, esattamente 5 ore di tardi, il governatore a oramentare il gabinete Mike Eymann II. e come tal, fuori di un momento non è qui, non c'è un governo nuovo. També un solo cambio, il signor Richard Veser, contava da perteneci al governo anterior, non ha seguito in politica e non pone su mese religibile. Il signor Richard Veser, ha un'ocupazione, un posto nuovo e un reto nuovo internazionalmente, per cui lo viaja pronto de l'exteriore. Claro, lo seguì da ruba, però in sua funzione nel mondo di servizio pubblico internazional. Il signor Richard Veser, ha un'ocupazione, 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 un'ocupazione di servizio pubblico internazionalmente, ha un'ocupazione, 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 un'ocupazione di servizio pubblico internazionalmente, servizio pubblico internazionalmente, Dauwers, Arthur Lawrence, Odeberg, Otmar Enrique, Hoi Boer, geboren winkelaar, Michelle Jenes, Swengel, Carlos Alex, Iros Kien, Juan David Elias, Kroes, Podrick, Francois, Theodorik, Grazie. 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 Grazie.